Ciao, allora grande richiesta, visto che l'argomento era interessante ma abbiamo avuto dei problemi tecnici, giovedì alle ore 19 continuiamo a parlare di correlazioni intramarket, ci sono in tutti i mercati ma sul mercato del forex sono così nette, perché è ovvio che un euro sterlina segue i movimenti che derivano da cosa sta facendo l'euro dollaro e cosa sta facendo sterlina dollaro. Sono argomenti freschissimi, lo vediamo stamani dove c'è un movimento di correzione che riguarda le major ma lo yen si sta apprezzando e quindi il cross yen assume su determinati livelli una certa importanza, l'effetto moltiplicativo, queste cose sono importanti, specialmente per a volte non operare, insomma all'inizio della mattinata ci si rende subito conto di quali sono le dinamiche della giornata e andare a sbattere su un cross, dico a caso, outcard, quando vediamo che l'australiano e il canadese più o meno stanno facendo la stessa cosa è dannatamente rischioso, non si ha quell'effetto voluto. Quindi quindi diciamo che studiando prima queste cose l'effetto tecnico, poi l'effetto di andare a fare una valutazione tecnica è sicuramente molto più profiguo. Quindi se hai capito che quanto quanta dedizione, quanto studio, quanti mattoncini servono per fare trading con successo ti voglio regalare questo mattoncino. Se vieni al webinar gratuito di giovedì scriviti alla community per farlo, avrai la tua area dove c'è anche il tasto webinar, ti lascio il link in descrizione. Un caro saluto da tutto il team di Professione Forex, a presto!